E' così, Giulio Sabbi, uno dei protagonisti assoluti di questa serata, a mio giudizio il migliore in campo. Veramente un'ottima prestazione su un campo difficile come quello di Perugia. Siete passati da autorità e i complimenti sono d'obbligo. Sì, hai detto bene, su un campo difficile dove è difficile giocare, soprattutto con questo pubblico, con questo bel pubblico caldo. E' difficile per tutti. Oggi siamo venuti qui convinti di fare una buona partita perché comunque c'era riuscita meno contro Civitanova e contro Trento. Volevamo fare assolutamente bene l'ultima dei big match al giorno andata e ci siamo riusciti. Quindi c'è un fondamentale su cui avete mirato la preparazione in questa settimana, qualcosa in particolare? Sicuramente la voglia, la grinta, la determinazione di non lasciare cadere nessuna palla. Abbiamo difeso tanto, abbiamo battuto bene e con questi fondamentali metti sotto pressione qualsiasi squadra. Perugia oggi abbiamo messo in difficoltà e siamo stati bravi. Le prospettive per la stagione? Adesso è prestissimo parlarne, però dobbiamo ancora crescere, dobbiamo limare ancora alcune cose, come è normale che sia, ma siamo molto fiduciosi.